Raccontare la danza con segni, immagini e parole. Parade è infatti una parata gioiosa, sognante e piena di colore, che dall'Istituto Comprensivo Severi è arrivata a Rosi Boa. È un progetto che si sviluppa intorno alla rassegna di danza curata da Sosta Palmizi dentro il Teatro Mecenate, che è all'interno della nostra scuola, e che va a sviluppare molti modi di raccontare il corpo, il movimento e la danza. È così nata la mostra, ospitata al Centro d'Arte Rosi Boa, fino al prossimo primo aprile. Che è il risultato dei laboratori che abbiamo tenuto a scuola insieme a un gruppo di bambini e ragazzi tra i 10 e i 12 anni, che hanno esplorato molti modi di raccontare la danza, sia nell'arte che nella letteratura per l'infanzia e per i ragazzi. Il percorso ha coinvolto 17 partecipanti tra i 10 e i 12 anni, indagando in molti modi di narrare la danza. Il gruppo di lavoro si riuniva di pomeriggio, quindi in orario extrascolastico, che è un gruppo molto attivo, molto curioso, e il fatto che abbiano età diverse dà un valore aggiunto a questo progetto, perché si creano dei rapporti di reciprocità molto interessanti, quindi i più piccoli entrano per la prima volta nella scuola media e vengono guidati all'interno degli spazi, nella biblioteca, nel teatro, e cominciano a relazionarsi con i ragazzi, che potrebbero essere i futuri compagni, e gli ambienti che potrebbero essere quelli dell'anno prossimo.